eeeh a buonmese rosso e diretti vuoi vedere che non avevi cartellina se non avevi morto su una pene è morta oh ma dai su la macchina non vestito dai che ci fai sconci il gioco dai non sconci il gioco normale e un vestito con la macchina soltanto dai e cominci qua Grazie a tutti, grazie a tutti.